Cassoni, l'indimenticabile Lambrusco Sonte, ovviamente lavorava in coppia con Carlo Furia e purtroppo questi due amici ci hanno lasciato. Poi vediamo i vari DJ, i DJ che anche questa sera stanno impazzando alle nostre spalle e poi i DJ del Lissio, dal Vincenzo che faceva anche il tecnico. They took the credit for your second symphony.